Ciao a tutti, benvenuti sul canale Muay Thai Nak Muay Stories in questo video gli highlights di Songpong Jaren Muang un combattente che nasce in Thailandia il 16 novembre 1940 ed era famoso sui ring thailandesi con il soprannome di Attaccante questo perché come potete vedere anche dal video era molto aggressivo, molto feroce aveva un pugilato ruvido, grezzo però molto potente ed efficace ha vinto tantissimi match negli anni 60 era molto attivo sui ring della Muay Thai ed era anche molto temuto è stato a lungo il numero uno del Raja Daman ma non è mai diventato campione di questo stadio però ha vinto il premio di miglior combattente dell'anno nel 1965 conferito da Ray in persona nella sua carriera, nonostante non abbia mai vinto il titolo del Raja Daman ha battuto comunque forti combattenti ha battuto Samart Somdaeng per KO ha battuto il famoso Dejirit Ittianushit e ha battuto per ben sei volte un altro grandissimo campione tailandese degli anni 60 Ravè De Chachai che penso non abbia bisogno di presentazioni Sonpong è stato un combattente fortissimo trovate alcuni match di lui vi consiglio di vederli perché sono match di altri tempi ma sono molto brutali dopo il suo ritiro è diventato tecnico presso il Rangstreet Muay Thai Academy se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale condividetelo mettete mi piace e al prossimo video ciao a tutti